Oggi giornata d'attesa per stabilire cosa fare domani sulle scuole, intanto lei sindaco è in costante contatto con il mondo scolastico. Sì, diciamo è una valutazione che dipende dall'uscita da questo caos istituzionale che ha i due interlocutori nella regione e nel governo. Noi come sindaci, io come sindaco di Teramo, sono in contatto permanente di fatto con l'ufficio scolastico regionale, con quello provinciale e con tutti i dirigenti scolastici di competenza del territorio perché dobbiamo assolutamente dare un supporto per uscire da questa situazione di confusione e consentire domani di avere una situazione di chiarezza. Suo orientamento qual è? Io mi auguro che questa giornata sia la giornata in cui si esca fuori da questo caos istituzionale e si vada a ricucire lo strappo che si è determinato, che ha un peso più rilevante e più significativo per le scuole perché ovviamente le attività commerciali sono ripartite, come abbiamo detto, su un'ordinanza vigente, fin tanto che non venga impugnata o sospesa e possono andare tranquillamente avanti come stanno facendo. Sulle scuole questa situazione di incertezza ovviamente è più preoccupante perché se come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute fino al 20 dicembre o in una data anticipata previa valutazione della cabina di regia sanitaria nazionale siamo in zona rossa, è chiaro che una riflessione su quella che è la situazione, l'impatto sotto il profilo sanitario della riapertura di queste classi dobbiamo necessariamente farla. Quindi attendiamo serenamente i chiarimenti che in giornata verranno fuori, la ricucitura di questo strappo, un'eventuale azione nei confronti dell'ordinanza regionale, insomma non è di nostra competenza e adotteremo tutti gli atti ovviamente insieme alla comunità scolastica. Se questa chiarezza non dovesse arrivare entro oggi? Ma vedremo, insomma attendiamo, comunque noi siamo operativi con questo tavolo permanente e adotteremo la scelta più serena e più responsabile che questo tempo ci impone, lo faremo nel dialogo con la comunità scolastica perché come abbiamo detto ieri e lo voglio ribadire, questo disordine istituzionale non può essere fatto pagare dalla comunità scolastica. Grazie a tutti.